ciao ciao a tutti scusate la mia assenza di queste settimane non so esattamente da quando non c'era un video ma sono stata parecchio impegnata e alcuni impegni vabbè un po' noiosi un po' così doverosi e altri invece sono stati molto molto belli però comunque mi hanno portato via tempo dalla pagina da youtube e allora l'impegno più grande più bello è stato parte del mio regalo di compleanno però anche del nostro quarto anniversario che è fatto dal mio compagno allora lui la scorsa settimana un pomeriggio è venuto da me e mi ha detto guarda domani partiamo per parigi io sono caduta dalle nuve tra lo stupore il non crederci lo dio devo sistemare tutto riorganizzare tutto fare le valigie e per fortuna lui praticamente aveva organizzato tutto aveva gestito anche i giorni di ferie perché praticamente tutti sapevano che saremmo partiti per parigi tranne io e quindi ho dovuto solo preparare le valigie però ovviamente mettere da parte tutto quello che io avevo organizzato di fare in quei giorni inclusi video post per la pagina eccetera però naturalmente è stato fantastico questo viaggio intanto avevo veramente bisogno un attimo di staccare di partire poi di passare proprio 24 24 del tempo solo con lui senza vari impegni di mezzo la quotidianità che c'è sempre e poi va beh un viaggio così io chi chi mi segue su facebook instagram insomma lo sapeva perché ho messo solo una foto di questo viaggio perché comunque ritengo una cosa abbastanza intima sì in parigi forse molti di voi ci sono stata la conoscono però non sono stata lì a fotografare per mostrare a voi quello che ho fatto che ho visto e vi ho avvisato soltanto un modo più che altro per avvisarvi che sarei stata assente comunque il viaggio è stato stupendo è stato stupendo per me non è la prima volta andare sera a parigi però era più stata la prima volta intanto che ci sono andata con lui e poi d'inverno è nel periodo natalizio quindi è stato bellissimo trovarla anche tutta allestita con tema natalizio quindi di chancelli seri pieni di luci di bancarelle natalizie e poi comunque abbiamo trovato anche un buon tempo bellissimo ovviamente abbiamo fatto tanti giri visse tante cose soprattutto perché lui per lui è stata proprio la prima volta camminato tantissimo io mi sono stancata però bello veramente bello un regalo non so magnifico ecco qui ovviamente quando sono tornata comunque dovevo riprendere un po la vita reale ed ecco sì a me piacerebbe tanto poter girare i video tutti i giorni ma non mi è possibile però immagino che voi possiate capirlo allora in questo video io vi volevo parlare proprio degli altri regali a parte questo che ho ricevuto per il compleanno perché nel video che nel primo video che vi ho fatto e io ve lo metto nel box informazioni così se siete curiosi andate a vedere vi avevo appunto annunciato che avrei ricevuto altri regali ed effettivamente nel corso di queste settimane così è stato io ovviamente come ho fatto in quel video vi mostro quello che può essere più di vostro interesse ovviamente ciò che riguarda per lo più la cosmesi perché si tratta di prodotti di cui io poi vi parlerò nelle recensioni nei prodotti finiti poi in realtà alcuni possono essere anche delle idee di regali natalizi quindi insomma in quest'ottica penso che questo tipo di video vi possa interessare allora gioco appunto come vi avevo detto in quel video avevo ricevuto dei soldini da parte della famiglia di del mio compagno e ho comprato due coschine che soprattutto uno puntato da tanto tempo vabbè uno è molto utile un cappotto non ve lo faccio vedere ma caldo mi è stato già utilissimo a parigi e so che presto mi sarà nuovamente utile soprattutto andando in posti molto freddi e qualcuno sa dove andrò è comunque insomma in previsione dell'inverno poi l'altro oggettino e ve lo mostro così perché in questo momento non mi è pratico mostrarlo con insomma il mio cellulare e il lo specchio della babyliss quello la versione 84 38 e che è l'ultima versione uscita che ha i due lati uno dove ingrandisce una volta e l'altro dove ingrandisce ben per otto volte quindi si vede tutto 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 è ottimo per truccarsi o nel mio bagno non ho una buona luce non ho un buono specchio quindi questo mi è veramente tanto utile e tra l'altro alle tre luci quella calda quella fredda e quella diciamo più naturale io quindi faccio le tutte le tre prove per vedere l'effetto del trucco veramente un getto utilissimo non è neanche tanto pesante quindi io lo posiziono in un punto però lì non mi posso truccare dove poi mi vado a truccare non posso proprio tenerlo sempre perché un bagno è piccolino però ecco si può spostare facilmente e ottimo poi guarda caso proprio nel periodo in cui insomma ho potuto acquistarlo c'era stato anche uno sconto su amazon e quindi meglio di così non poteva andare contentissima di averlo preso veramente utile poi sempre dalla parte della famiglia insomma del mio compagno mi è arrivato in questa confezione molto carina così allora c'erano alcuni prodottini uno è un sapone mani che stiamo già usando alla profumazione di frutti di bosco la profumazione non è fortissima però è buona io purtroppo non ricordo dove ho messo l'involucro di carta che lo conteneva non ricordo neanche la marca comunque un sapone comprato in arboristeria l'inci era insomma medio non malvagio e sicuramente lo ritroverò nel carto perché di solito non butto niente fino a che non mi ha fatto le recensioni quando finirò il sapone o comunque quando lo ritroverò ve ne parlerò meglio però c'era questo sapone mani poi questi bellissimi sono dei gessetti profumati si riuscite a vedere insomma i colori a forma di macarons buoni cioè buoni sarebbero da mangiare ma io non posso però buono anche la profumazione molto molto carini da tenere gli armadi per insomma profumarli e poi una crema mani dell'erbolario della nuova linea camelia che mi pare proprio sia uscita di recente e questa è la crema fondente per le mani nella confezione piccolina ma tanto tanto carina vi faccio vedere la confezione non l'ho ancora aperta perché sto usando altro quindi quando avrò osservato il resto la priroma guardate com'è carino tra l'altro voi sapete che l'erbolario non ha sempre inci ottimi questo invece dando un'occhiata così veloce ha veramente un ottimo inci quindi meglio di così poi non è testato sugli animali è comunque testato anche al nickel addirittura a sette metalli quindi perfetto per chi soffre di tante allergie ecco non vedo l'ora di finire altri prodotti per poterla provare penso che sia veramente un'idea carina poi di questa linea camelia so l'ho vista in erboristeria ci sono le creme mai più grandi forse c'è anche una candela profumi saponi bagno doccia insomma ci sono tutti i vari prodotti quindi ecco ho una delle novità dell'erbolario allora è questo quindi è stato un altro regalino poi una mia amica mi ha regalato questa confezione che è uno dei pacchetti pronti della Lush la Lush fa anche questi pacchettini diciamo già pronti con dei prodottini dentro qua c'era diciamo questo che io l'ho staccato l'ho attaccato qui che è la persona che ha diciamo creato questo pacchettino che viene chiamato butterfly e contiene due prodottini ve li faccio vedere ma anche questi non li ho aperti perché ho atto prima da usare che è la crema il balsamo corpo regina di rose è un sapone che però io poi ho messo nella carta forno perché si stava sciogliendo quindi per conservarlo che ha questa forma troppo bella è una profumazione buona non so descriverla me la mi dispiace comunque qua viene descritta si chiama sultana come un sapone cremosso pieno di frutta secca ed essenze di bergamotto ecco forse bergamotto che si sente molto e olibano che non so cosa sia quindi questi due prodottini diciamo a livello 10 non sono proprio perfetti però comunque questa mi è stata veramente carina a scegliere anche come questo negozio questo tipo di negozio anche questo prodotti ecco vi rifaccio vedere e quindi ovviamente l'ho già ringraziata tantissimo quando le avrò provati ve ne parlerò ha pensato alla lash anche un mio amico un attimo che prendo il pacchettone e il pacchettone perché lui ha deciso di regalarmi questa confezione più grande che è vabbè c'era dentro c'era anche insomma con l'altro pacchetto davano questo dappian che comprende anche diciamo i prodotti nuovi della lash questo è il credo che si chiami così christmas con dentro tutti questi prodottini allora intanto era incartato con questo quindi praticamente si usa tutto perché poi queste scatole le utilizzo anche sono comode anche per fare dei pacchetti con allora loro lo utilizzano qua c'era un bigliettino credo che non so dove sia finito eccolo che mostra come utilizzarlo come turbante io a vederlo ho più intenzione di utilizzarlo in realtà come diciamo centro tavola come vedete poi a tutte queste decorazioni natalizie e tra l'altro rettangolare quindi carina come idea perché in effetti anche diciamo poi l'involco della confezione si riutilizza allora qui dentro cosa c'è anche qui mi mostro i prodotti non li ho ancora provati né aperti perché ho altro poi ve ne parlerò allora intanto un gel doccia con i brillantini chissà che effetto farà sul corpo ecco poi una gelatina doccia io questa in realtà stavo studiando perché l'avevo visto in negozio c'è un po giocato un modo per crearle da sola e migliorando neanche l'inci quindi adesso sono anche contenta di averla per poterla testare leggere bene gli ingredienti che non sono proprio malvagissimi però e poi vedrò come anche troverò insomma riesco a riprodurlo il poi c'è una body lotion celebrate e anche qui un sapone chiamato biancaneve anche questo l'ho incartato io perché loro lo mettono nella sconfezione senza involucro però ecco loro mettono questi polistirolo comunque per conservare i prodotti quindi questo è stato un altro regalino ovviamente comunque apprezzato e basta come regalini di compleanno sì diciamo che sarebbero finiti però nelle scorse settimane ho ricevuto anche i due pacchettini uno totalmente inaspettato e l'altro è stato da parte di una persona molto molto gentile che mi ha inviato questo parchettino per farmi provare dei prodotti sto parlando di monipenni che ha un bioprofumeria a piacenza si chiama naturalmente biocosmesi ma anche un canale youtube che a me piace tanto seguire perché lei si parla di cosmetici anche da un punto di vista di una rimedritrice quindi anche molto interessante perché parla anche diciamo del parere dei poi di chi compra però nel suo video parla anche di altro e a me piace in realtà quando anche parla di diciamo questioni di vita perché fanno anche parte quelli di noi allora sotto un suo video cioè sì lei aveva parlato in un suo video dei profumini dell'antos e io avevo scritto che mi incuriosivano tanto e che è difficile comprare online i profumi perché non si possono sentire prima e almeno io personalmente con i profumi sono sempre molto particolare quindi lei è stata carinissima perché mi ha inviato qualche campioncino per farmi riprovare allora anche questi non li ho ancora testati perché appunto li ho avuti ma poi sono partita però vi mostro cosa mi ha mandato perché mi ha mandato anche qualcos'altro allora c'era intanto il pacchettino e sonoro perché ha inserito due campanelline troppo carine il bigliettino decorato ma quello non ve lo faccio vedere allora mi metto qua quello che mi ha dato io ho fatto una foto sugli altri miei social però so che non tutti mi seguono anche lì e quindi vi mostro queste sono le campanelline visto che siamo vicini al natale ci sanno tutto allora dei profumini mi ha inviato questi due sempre una alla vaniglia che è la mia profumazione preferita e proprio in generale e anche infatti delle tre già avendo le sentiti è quello che più mi piace poi il hanno dei profumi dei nomi difficili scusatemi anche mezzanotte e mi è un po di sono stanca allora questo si chiama l'es geniax de jacques ce l'ho fatta avrò sorpiato totalmente il nome non lo so e poi rev dalche ecco questi quindi vi proverò in più aggiunto uno smaltino della color color mel questo è il loro logo e il numero 3 questo rosa molto molto carino e un blush della bene cos il rouge a e questo è il diciamo il logo della del suo della sua profumeria naturalmente biocosmesi allora questo è la colorazione molto molto bello come blush ma come sempre vedete molto molto poco ma chissà comunque io lo proverò lo testerò è sul rosa non so a me piace non è non è un rosato barbie però rosa scura ecco e quindi questo è stato il primo pacchettino poi un'altra persona che sento da un po insomma ci sentiamo anche al di là proprio di youtube e anche se li sto parlando insomma di silvia di sweet house vanilla 01 e anche di lei vi metto il link sotto insomma come quello di monipenni così se siete curiosi potete andare a vedere il loro il canale di moni di monica e il blog di silvia insomma sapeva che stavo vivendo un periodo un po così e per tirarmi su a sorpresa mi ha fatto arrivare un pacchetto in particolare si tratta di questo pacchetto che lei ha ordinato su carta zucchero che è la bioproofimeria che si è aperta da pochissimo a reggio emilia e loro non hanno ancora un sito online e infatti diciamo hanno anche iniziato da pochissimo a vendere online e silvia è stata proprio la prima persona che ha fatto questo tipo di ordine da loro quindi è stato anche proprio una novità totale perché anche testato questa bioprofumeria il modo in cui lavorano ed è perfetto poi silvia mi ha detto insomma che il pacco l'ha ordinato ed è arrivato in poco tempo e le persone che la gestiscono sono veramente attente al cliente e infatti anche come è stato creato e questo pacchetto era proprio perfetto allora vi faccio vedere sia quello che c'era dentro che quindi mi ha fatto arrivare si va vabbè c'era tutto incartato c'era un questo bigliettino questo è diciamo il nome della di questa bioprofumeria c'è comunque una pagina facebook quindi non c'è il canale youtube il sito online però c'è la pagina facebook forse se potete ordinare insomma come ha fatto si ve li contattate da lì direttamente non vi faccio vedere il retro perché ci sono le parole di silvia che però ovviamente hanno scritto loro e l'hanno scritto a mano con anche di disegnini io penso fosse stata silvia non so come a scrivere il biglietto e infilare nel pacco e farlo arrivare da me attraverso di loro quindi comunque sono stati tanto tanto attenti nella creazione di questo pacco mi è piaciuto allora quello che mi ha regalato silvia è stato il nuovo mascara che della nabla io ho rimesso qua per fare il video ma sto già utilizzando diverso tempo cioè diverso tempo da alcune settimane da quando mi è arrivato e questo arriva in questa confezione molto utile e questo è ovviamente il biglietto che penso che l'abbiate visto in tanti social foto e questo è il mascara allora dentro c'è tanto tanto prodotto a lince buono ok poi ve ne parlerò meglio quando lo recensirò per bene perché queste sono prime impressioni comunque c'è tanto prodotto quindi quando lo si inserisce bisogna stare attenta soprattutto le prime volte rischiavo di farmi uscire questo è il lo scovolino allora come mascara su di me non allunga le ciglia però devo dire che non ho bisogno di che vengono allungate ha bisogno che siano incurvate le incurva tanto le riempie quindi secondo me le volumizza dura io l'ho usato a parigi quindi tutto il giorno dura tutto il giorno non crea grumi non non crea c'è non fa niente non va via poi comunque si strucca anche facilmente buono mi sta piacendo tanto ve ne parlerò meglio ovviamente man mano che lo utilizzerò e poi nel pacchetto c'erano anche dei campioncini quali fruido corpo miele biofficina una crema viso idratante di mater natura e il trattamento protettivo viso corpo ecco quindi questi sono tutte le altre cosine che proverò testerò e che ho ricevuto io naturalmente ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto questi doni li ho già ringraziate però le ringrazio nuovamente se voi siete curiosi di sapere qualcosina riguardo qualcosa in particolare fatemi sempre sapere allora io vi auguro la buonanotte sono stanchissima questo video lo pubblicherò domani mattina quindi buongiorno a chi lo vedrà di giorno e a me buonanotte ciao ai prossimi video